Iniesta, e chiudiamo! La caratteristica dell'audo è un risiede con quella dello scelto della città. Alessandro Beghi! E il nostro rete, Davide Cavoli! Continuano le sorprese, arriva l'audo del finalone, Simone e Filippo! Da questa parte, e loro sono mostruosamente incredibili! Roberto! Stevi! Mario e Fabio! Li lasciamo posizionare, e da-to-to! Ci posizioniamo anche voi, tutti insieme! Piedi, 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 piedi! Su, 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 su! Festa! È arrivato il momento di festeggiare! Il vincitore della sfida di oggi! È lui! Il nostro stan continuatore! E James Scotti! Da definito, lo stan dei record! Tutti insieme! Volume! Oh! Non esageriamo! Un periodo di più, dai! Oh! Arriva, arriva, arriva! Allora! Pronto a sprecciare! Da questo là in fondo! Si comincia ad intravedere l'audo di... Tutti insieme ora! Oh! 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 E! Iihitting! Uchi! Iih bikini mi hanno condiviso! Ethose! Ozie! S identifyvi! E iihitting! glichbutiil אתriZ! insieme 1, 2, 3 da questo foro